Amici di Dynamo TV, oggi andiamo a pranzo con Philip Kruslin al St. Joseph Music Pub. Adesso manžiamo. 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 L'ultima volta che ero era il giorno, era la mia famiglia. Le parti sono davvero grandi, quindi se siete davvero inglesi, è un ottimo posto. Anche con la pandemia, l'ultimo anno, mi avevo iniziato a casa, per sicuramente, 4-5 volte a settimana, perché nei ultimi due mesi, mia famiglia non era qui, quindi mi avevo iniziato e non volevo capire per me stesso, quindi mi avevo iniziato da St. Joseph e tutto il tempo era molto buono e mi piaceva qui. Io sono, posso dire, tutto. Non sono troppo piccolo con la città. Posso mangiare tutto, solo dipende se ho pratico o se non pratico. Oggi ho mangiato da città. Adesso ho mangiato da città. Adesso ho mangiato da città. Città, barbeque, polo o qualcosa di così. Grazie.